Loro vengono da una gran partita contro il Barcellona, delle due vittorie consecutive e noi vogliamo confermare il nostro ottimo momento di forma, nonostante se la vogliamo chiamare una piccola battuta d'arresto contro l'Atalanta che ci poteva stare, vista anche come è stata la dinamica della gara. Ma al di là di qualche piccolo problema in generale, devo dire che abbiamo recuperato Berardi anche se non è in una condizione ottimale di forma, però la cosa più importante è che ha recuperato dal problemino che aveva la gamba. In generale quest'anno siamo partiti bene a partire dagli amichevoli, ma quello che mi piace di questa squadra sono gli atteggiamenti e anche nelle difficoltà, l'abbiamo dimostrato anche domenica, ne siamo venuti fuori alla grande. Non è la prima volta che recuperiamo un risultato, è segno di grande maturità. È ovvio che avremo davanti una formazione con grandissimi giocatori, con qualità e cese, quest'anno si sono anche migliorati rispetto all'anno precedente, però noi andremo sicuramente a Roma per giocarcela. Devo dire che noi siamo usciti per due anni consecutivi imbattuti all'Olimpico, dall'Olimpico ci auguriamo di ripetere. Felicissimo di ritrovare tanti amici, felicissimo che la Roma faccia bene successivamente da lunedì, questo sicuro. Però ritrovo tanti amici, ma per me non è la prima volta, cercheremo di far bene, di pensare prima di tutto al Sassuolo. È ovvio che noi abbiamo un nostro modo di giocare che non si lega tanto alla squadra che andremo ad affrontare, ma alle nostre caratteristiche, ovviamente sapendo che dall'altra parte ha una squadra forte e noi non ci dobbiamo snaturare. Questo è sicuro, che noi andiamo in campo per cercare di far bene, non di dire come va la spacca. Non è una partita jolly, è una partita di campionato di Serie A dove noi ci teniamo a far bene, ci presentiamo all'Olimpico con sette punti come la Roma, sta a significare che anche noi qualcosa di buono abbiamo fatto e ce la vogliamo giocare alla grande, sapendo ovviamente che abbiamo una squadra forte davanti, ma non partire già a remissivi o pensare che come va, va bene. Questo non è un ragionamento che faccio mai alla mia squadra e non lo farò nemmeno oggi.